Vigilia degli ottavi di Europa League, la Lazio di Vladimir Pekovic riceve in casa lo Stoccarda. Si riparte dallo 0-2 dell'andata, un risultato che dovrebbe garantire ai Bianco Celesti il passaggio del turno. La Lazio ha svolto l'allenamento di oggi a Formello sotto una pioggia torrenziale. Le indicazioni della vigilia parlano di un Pekovic concentrato soprattutto nel motivare la squadra tanto per il risultato di vantaggio da cui partono i Bianco Celesti, quanto perché all'Olimpico si giocherà a porte chiuse. La Lazio quindi dovrà cercare di mettersi alle spalle il K.O. rimediato in campionato contro la Fiorentina. In campo dovrebbero andare Marchetti in porta, Peredini, Abiava, Ciani e Radu in difesa. Centrocampo con Candreva, Onazzi, Mauri, Ederson e Lulic, mentre in avanti ci sarà Kozak. Lo Stoccarda nonostante il risultato d'andata è arrivato a Roma tutt'altro che rassegnato, visti anche i risultati dei Bianco Celesti in campionato. Il Mondesliga sono riduci dalla sconfitta per 1-0 in casa contro l'Hamburgo, ma domani sera proveranno a fare la gara della vita. L'Abbadia sembra intenzionato a schierare un 4-2-3-1 con un Rage tra i pali. Sakai, Rudiger, Tasci e l'ex Juventino Molinario in difesa. Centrocampo, Kvist, Gentner, Okazaki, Maxime, Traorea alle spalle dell'unica punta che sarà l'ex Bianco Celeste Federico Makeda.